Ho un cancro. Per me continuare a lavorare è fondamentale nella lotta contro la malattia. C'è una legge che mi aiuta a vivere la normalità, dandomi l'opportunità di trasformare il mio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. È un diritto che si può estendere anche ai familiari. Informati. Il cancro si combatte anche sul posto di lavoro. Difendi la tua normalità. Grazie a tutti.